Ufficiale il trasloco per la prossima stagione di Serie B per le gare interne della Futsalza Giovannese. Gli Azzurri, dopo la finale play-off persa contro la città di Massa, infatti hanno ricevuto la conferma che a partire dall'autunno 2019 le misure del campo in lunghezza sul lato lungo passano dai 32 ai 34 metri e questa lunghezza è impossibile da raggiungere al tenso statico di Piazza Palermo. Sede obbligata già per la B, visto che al Paladrago di Via Genova anche 32 metri erano impossibili da ottenere. A questo punto diverrà obbligatoria la trasferta per tutta la stagione a Terra Nuova, dove appunto nel recente Palasport non ci sono problemi di spazi e dimensioni e dove la Bill ha giocata anche la squadra locale per un anno prima della rinuncia. Questo obbligo per la Futsal porta con sé qualche svantaggio, che è quello in primis di conoscere meno bene il proprio terreno e poi di poter contare magari su qualche tifoso in meno sugli spalti. Considerata la perfetta logistica del tenso statico, attivo allo stadio comunale, è adatto a richiamare anche appassionati della versione A11 del gioco. In più, il noleggio del campo è decisamente più elevato. Assieme ad un aumento del costo di iscrizione e fideiussione, dunque, la spesa globale della stagione della Futsal è destinata a increscere.